Allora, Claudio Zaccarin, vediamo un pochettino quali sono le novità per quest'anno. Intanto volevo un po' che ricordare, puntare l'accento su quello che dicevamo prima, no? Assegni familiari. È una novità? Cosa succede? Succede questa novità che da quest'anno gli assegni familiari non si possono più presentare in cartaceo, ma bisogna presentarli solo online. Da adesso? Dal primo di settembre, scusate, dal primo di luglio, subito, parte la campagna per il rinnovo degli assegni familiari. Quindi dal primo di luglio si potranno presentare le domande online presso i patronati sindacali e ci sarà un po' di lavoro da organizzare perché ci sarà un po' di ressa, perché sono tanti i lavoratori dipendenti che devono chiedere gli assegni familiari. È giusto che questa riforma dell'Inps è corretta, noi la riteniamo giusta, perché prima non c'era la possibilità di controllo e c'era una forte evasione e in particolare in alcune aree del paese c'era chi chiedeva signi familiari, comprese imprese, senza averne diritto. Ma cartaceo o online? Il cartaceo poi sarà stato acquisito? Sì, ma chi controlla? Migliaia e migliaia di dichiarazioni in cartaceo. Adesso con una banca dati online che forniamo noi, gli incroci sono molto semplici, perché capire chi ha figli, i nuclei familiari, tutti questi dati che sono già in banca dati, basta incrociarli in automatico e in automatico saltano fuori le cose che non funzionano. Quindi questo per una maggior certezza, diciamo, però c'è un po' di complicazione. Quale sarà la difficoltà? Quindi che cosa stare attenti, che cosa imparare? Beh, intanto va detto che è meglio farsi assistere, perché gli insegni familiari sono una cosa un po' complicata, sembrano banali ma non lo sono, non è la richiesta per il figlio minore. No, questo è importante dirlo, perché adesso tanti che ci seguono senza dubbio avranno le segni familiari. Normalmente sono abituati a farlo anche autonomamente in cartaceo, adesso no, attenzione, siccome vanno fatti online è bene farsi assistere, perché? Attenzione, qui c'è la sorpresina, ovvero? Beh, riguarda anche gli immobili che hai, riguarda addirittura i immobili all'estero. Immobili al resto? Immobili, dipende dal, ci sono scavalchi di attività lavorativa magari dei figli che sono in casa a carico che non lavorano più, dipende dal periodo, cioè va calcolato, cioè ci sono tantissime sfaccettature, ci sono quattro fogli di istruzioni per gli insegni familiari, dunque non è una paginetta, ci sono quattro pagine di istruzioni e anche istruzioni prettamente fiscali, perciò bisogna fare anche un corso fiscale. Noi stiamo adeguando le strutture della CGL su questa materia fiscale, delegati sindacali in grandi fabbriche, in luoghi di lavoro importanti, non solo fabbriche, ma nei luoghi di lavoro più importanti stiamo tentando di formare anche i delegati perché possono dare questo servizio direttamente nel luogo di lavoro, i nostri uffici ovviamente dell'Inca che sono già pronti, però è tutto un lavoro da mettere in campo il primo anno molto complesso, quindi fatevi assistere perché, ripeto, sbagliare significa che fra un anno e mezzo, perché quello è il tempo che l'Inps ci metterà a fare tutti i controlli incrociati, fra un anno e mezzo se qualcuno ha sbagliato e ricevuto soldi in più, gli richiederanno immediatamente indietro e quindi dovrà, a quei 100, 200, 500, 1000 euro, quelli che saranno dovrà restituirli subito, quindi è un rischio magari di trovarsi fra un anno o due a restituire 1000 euro, magari prendendo 1000 euro al mese di stipendio, quindi è meglio evitare questa cosa. Il problema è proprio questo, che il controllo verrà fuori come sempre, non immediato, tra un mesetto eccetera, entro i tempi per la correzione, ma tra un bel po' di tempo, quindi attenzione, c'è sempre la sorpresa. No, e devono sapere soprattutto che i controlli esistono dalla pratica di quest'anno, perché prima i controlli non c'erano, quindi anche se si è fatto un assegno familiare per anni errato, quello non viene a controllare, è difficilmente che ci sia un controllo, per questo che abbiamo online, il prossimo domanda che faremo, quella verrà controllata, quindi va fatta estremamente attenzione a come si caricano i dati sulla piattaforma dell'Inps. Perfetto, segni familiari ricordiamolo ancora, per chi ha figli a carico, per immobili situati all'estero, e per, mi diceva ancora... Beh, vanno calcolati immobili e condizioni familiari del nucleo, quindi... Del nucleo familiare, ok, perfetto. Quindi famiglie sostanzialmente, articolate, coniuge e quant'altro. Altre novità? Beh, l'ISE doveva scadere il 31 agosto, e invece c'è stata la proroga, perché coincideva con il reddito di cittadinanza, e con la pensione in cittadinanza, quindi è stata prorogata la scadenza, come gli altri anni, al 31 dicembre del 2019. Cosa ti porta? Però dal 2020 l'ISE scadrà il 31 di agosto, quindi dal 1 di settembre, chi dovrà rinnovare questa pratica, potrà farla dal 1 di settembre. Quanto è importante l'ISE e a chi può servire? Beh, l'ISE serve a tutti quei cittadini che richiedano allo Stato delle agevolazioni fiscali o di prezzo, tipo casa popolare, gli affitti, le case popolari, eccetera, e che hanno bisogno di certificare il reddito familiare. Oppure l'università per i figli, oppure se hai qualche handicap a casa, o qualche assistenza per una persona anziana, cioè ci sono tantissime, e poi ci sono tutti i comuni che determinano al proprio interno delle detrazioni o delle agevolazioni ai propri cittadini, diverse da comune a comune, e tutte chiedono la DSU, cioè l'ISE, l'indicatore economico della famiglia. Per qualsiasi richiesta, quindi è bene avere l'ISE. Poi l'abbiamo vista, sul reddito di cittadinanza, sulla pensione di cittadinanza, l'ISE la fa da padrone. Siete stati coinvolti per il reddito di cittadinanza, in qualche modo, pensione di cittadinanza, avete avuto qualche coinvolgimento indiretto? Coinvolgimento indiretto sulle pratiche? Sì, sulle pratiche. Beh, senza i CAF il reddito di cittadinanza in questo paese non ci sarebbe stato, perché la stragrande maggioranza delle pratiche le abbiamo presentate attraverso i CAF, noi ne abbiamo fatte come CGL circa 12.000. 12.000? 12.000. E quante sono passate? Beh, per adesso siamo sul 50%. Ah, 50%? Sul 50%. Ma come mai? Per errori commessi? No, perché... Oppure perché non... Perché, allora, noi il nostro compito era quello di verificare l'ISE e che non fosse al di sopra della soglia determinata dalla legge e di informare il cittadino che l'autodichiarazione che lui faceva non doveva contenere alcuni dati. Il cittadino... Non doveva contenere alcuni dati? Sì, nel senso che tu, per esempio, non potevi chiedere al reddito di cittadinanza se eri al di sotto dell'ISE previsto, ma avevi per esempio qualche familiare in casa che aveva acquistato un'auto o tu avevi acquistato un'auto i primi sei mesi o un familiare entro i due anni, il superiore ai 1.600... Cioè, c'erano alcune condizioni che determinavano l'esclusione dal calcolo perché poi chi faceva il calcolo era l'IMSS attraverso un algoritmo di cui noi non siamo a conoscenza perché abbiamo chiesto la trasparenza sull'algoritmo l'IMSS aveva comunicato che ci avrebbe fornito i dati di calcolo ma ancora non ce l'abbiamo e attraverso questo algoritmo dell'IMSS mettendo dentro tutta una serie di fattori viene fuori se tu hai diritto o meno e quanto hai diritto economicamente di reddito di pensioni di cittadinanza. Quindi noi non siamo in grado quando facciamo la domanda di sapere uno se viene accolta e due qual è l'importo del salario tant'è che moltissimi a cui noi non abbiamo detto niente perché ripeto non siamo in grado di calcolarlo sono stati fortemente delugi dalla cifra perché pensavano di prendere chissà che e poi per un calcolo di questi parametri non sono stati considerati così poveri da avere il diritto della cifra completa quindi c'è stata un po' di confusione su questa cosa però insomma è andata così le domande non sono molte noi pensavamo fossero molte di più per una serie di ragioni insomma sono state quelle che le ho detto poi altre tante credo ne abbia fatta la CISL un po' gli altri insomma però in Veneto non sono proprio così tante Beh vuol dire che non c'erano neanche i presupposti a questo punto perché Eh beh la legge era molto severa diciamo rispetto all'integrazione Torniamo noi alle invece novità per chi non si trova in situazioni particolari a che cos'altro bisogna stare attenti ricordarsi eccetera Allora la scadenza dell'ISI l'ho detta quest'anno il 7.30 scade il 23 luglio quindi l'ultimo giorno utile per fare 7.30 per richiedere così le detrazioni delle spese mediche e di quant'altro previsto dalla legge il reddito cittadinanza continua quindi non c'è una scadenza per adesso se no fino alla fine dell'anno diciamo che altre novità fiscali in particolare non ce ne sono non ci sono altre date particolari da fare ricordare La cosa più importante appunto è quella degli assini familiari che riguarda moltissime famiglie questo sì è una scadenza da mettere in calendario del primo di luglio sapendo che anche se non si fa nel mese di luglio ma lo si fa da agosto a settembre non cambia niente nel senso che poi gli assini familiari verranno dati dal dato da quando se ne ha diritto quindi evitiamo la res di complicarci tutti la vita le detrazioni invece questo è l'altro capitolo che ogni anno ci sono delle variabili ci sono dei cambiamenti eccetera per cui non è una cosa semplice ecco siccome vorrei fare appunto capitolo unico detrazioni io direi andiamo in pubblicità rapidamente poi torniamo così abbiamo tutto il tempo per non scindere questo momento che è significativo quindi pubblicità a pochi secondi